E allora diciamo, vuoi capire le folbe? Cosa fa lo storico? Lo puoi capire da tanti punti di vista, però dal punto di vista storico la prima operazione è quella di messa in prospettiva. Prospettiva parodologica, metti le folbe dentro un asse parodologico più o meno parete, è la prima operazione che fa lo storico. Questo ti dice cosa è venuto prima e ti dice anche cosa è venuto dopo, quindi l'utilizzazione della mia moglie di città. Però gli storici fanno anche una operazione, che è un'operazione di prospettiva, per così dire, orizzontale. Mettiamo le folbe insieme con tutti i fatti che più o meno assomigliano e tu scopri una cosa interessante. Bella, la spiegata sicuramente, bella per non dire per carità, che le folbe fanno parte di un processo che viene dell'immediato dopoguerra, quello delle vendette, è un grosso, un grande processo. Coimboge circa 12 milioni di persone con circa 2 milioni di vittime. Quindi ho qualche cosa sicuramente di inerbidio, ne devi parlare perché è un qualche cosa di grosso. Ma non ha nulla a che vedere con un processo di sterminio precedente che riguarda l'immediato. Questo è un altro sistema di strage, un altro sistema di modi. La storia ti deve insegnare questo, questo ti deve insegnare. E il problema che noi abbiamo è come facciamo a utilizzare questo strumento con gli sistemi di indagini tipici della storia. La risposta che si dice è reale. Bisogna insegnare a navigare, bisogna allora diventare, allora, io immagino che adesso Fede ci darà delle cose che io non conosco e sono illuminanti su questo. Dal punto che mi stasmo in modo molto difficile perché io potrei dire, bene, per insegnare a navigare dovete tenere presente questo, la coordinata cronologica e la coordinata spaziale. E' una cosa semplice da fare. Che c'è? Faccio di mezzo da dire, farlo quello, è veramente un problema. Come si fa a farlo ogni volta se lo selezionare? Come si fa ad andare a selezionare il sito che funziona da quello che non funziona, da quello accettabile, da quello che non accettabile? La risposta è la prima. E' ma chi chiede le pratiche? E qui troviamo un punto su cui noi dobbiamo riflettere. Perché la risposta gira e porta è se le deve fare per insegnare. Gira e porta è abbiamo una patata bollente, nessuno di noi sa come risolverla, beh, insomma, vedi che la tu, sei tu che devi guidare, sei tu che devi fare il maestro, sei tu che devi fare il motore, sei tu che devi fare il motore, stai a franto ragazzo, sempre, non la lasciare a migliare da solo, eccetera, eccetera, tu devi fare tutte queste cose qui, però lo devi fare tu. Da te dipende. E la domanda che vorrei fare il motore è se questo problema è un problema personale, cioè un problema individuale di ciascuno di voi o è un problema sociale, è un problema dell'istituzione? Chi se ne deve fare il calcio? Certo, il docente deve curare tutto questo, ma l'attrezzatura, gli strumenti per fare tutta questa cosa qui deve essere autoprodotta in casa, oppure deve trovare, così come trova il manuale, i documenti, eccetera, dovrebbe avere un'assistenza solida da parte delle istituzioni, sia universitarie, sia formatrici, sia da parte dell'amministrazione. Questo è il primo punto che già ci dice quanto sia importante per i nostri istituti cominciare a robarci di questo argomento.